Allora signora, lei dove abita innanzitutto? Dunque abito in via Grazia dell'Eda, 17, zona Copp. Ecco, quindi dietro la Copp, che cosa è successo qualche giorno fa? È successo che lunedì pomeriggio, intorno alle 4, si è presentata una signora con tanto di cartellino, una signora di circa 60 anni. Aveva in mano un foglio con dei numeri della via da dover prendere e rilevare la lettura del contatore dell'Enel, cosa che io gli ho fatto vedere il mio, però ero titubante della cosa perché a memoria mi ricordavo che nessuno mai, in questi anni, è mai venuto a leggere il contatore perché sono elettronici. Quindi un attimo abbiamo dibattuto la cosa, lei era anche un po' prepotente diciamo, sta signora. Quindi io gli ho fatto vedere questo contatore, ha tentato di aprire anche il contatore di mio figlio che era chiuso, che non gli si apriva, quindi anche quello un attimo non mi piaceva. E quindi io volevo portare a conoscenza sta cosa che se si presentasse qualcuno per la stessa cosa, ecco, una cosa falsa perché non vengono a leggere il contatore, quindi vorrei solo dire questo. Però siccome ci sono persone anziane nella strada, nel quartiere, il pensiero è spontaneo. Sì, ma anche uno un attimo che non pensa fa entrare in casa qualcuno che non deve entrare, quindi questa qui è entrata da noi solo nel giardino perché noi abbiamo il contatore fuori, però altre persone, come la mia vicina, ha il contatore dentro. Se un attimo così è, la fa entrare, quindi poteva essere chiunque questa persona.